Parliamo inevitabilmente della guerra che si sta combattendo in Ucraina e naturalmente anche il biellese si è mobilitato, c'è stata una manifestazione assolutamente partecipata. Sono diversi biellesi che vorrebbero mandare pacchi, indumenti, cibo, alimenti di prima necessità, ma questo assolutamente non è possibile. Questo è il monito che arriva dalle associazioni che si occupano di corridoi umanitari e quindi Caritas con Croce Rossa. Ieri c'è stato anche un incontro in prefettura per l'accoglienza di eventuali profughi, ma ovviamente questo discorso è ancora tutto in divenire. L'aeroporto, la dogana è chiusa e quindi si sta veramente attendendo uno sviluppo e così si vorrebbe ovviamente che sia positivo. Raggiungiamo questa mattina il presidente di Croce Rossa, Osvaldo Ansermino, proprio per fare il punto e capire che cosa si può e non si può fare. Andiamo a vedere. E quindi dicevamo, naturalmente anche Croce Rossa Biella è attiva e presente in tutte le situazioni di emergenza. Allora, intanto, che cosa è utile fare in questo momento particolare? Innanzitutto essere coordinati, non fare fughi in avanti, cercare di capire che è una situazione sicuramente drammatica, emergenziale. E come la pandemia ci ha insegnato, però la rete, la capacità di fare squadra può essere vincente. Quindi, affidarci quelli che sono i canali ufficiali, mettere in condizione l'informazione di arrivare ai giusti interlocutori ed evitare, ripeto, rifughi in avanti che possono essere sì un afflatto di volontarietà di dare un aiuto, ma che possono poi essere inefficaci quando non vengono poi direttamente recapitate al mettente. Come si diceva, c'è stata una possibilità, un'apertura data anche dal governo italiano, l'accoglienza dei profughi e dei rifugiati. Questo deve essere un canale aperto, come è stato aperto in passato, attraverso i canali prefettizi. Noi, associazioni del terzo settore, piuttosto che gli enti istituzionali, possono fare da raccoglitore per questa disponibilità, sia per quanto riguarda le emergenze, sia per quanto riguarda la disponibilità delle persone. Dopodiché, gli interlocutori che faranno però avviare tutte le pratiche necessarie all'accoglimento delle istanze, sono in prefettura e quindi mi occorrerà che le associazioni facciano riferimento alla prefettura. Allora, senta, in questo momento specifico, tanti cittadini che vorrebbero magari inviare pacchi, beni di prima necessità, non è possibile? Le raccolte di beni materiali in questo momento sono molto, diciamo, delicate, perché oltre alla raccolta vera e propria, bisogna poi fare in modo che queste arrivino alla destinazione e come sappiamo i confini non sono così accessibili. Come Caccia Rossa Italiana abbiamo aperto canali che riguardano più che altro raccolti di carattere economico, finanziario, monetario, sia tramite le raccolte istituzionali sul nostro sito, anche aderendo all'iniziativa con Unicef, l'alto patronato dell'ONU per i rifugiati, per l'SMS sui canali televisivi nazionali, il 45525, dà la possibilità di avere una donazione, diciamo, diretta su risorse che poi verranno impegnate nell'assistenza alla popolazione ucraina, sia in termini, appunto, di prima necessità, sia di carattere sanitario e farmacologico. Al momento, come Comitato di Biella, non abbiamo attivato altri canali per quanto riguarda la raccolta di materiale, però è una situazione di venire, si potranno essere in futuro delle potenzialità, soprattutto per quanto riguarda i farmaci, ma ne daremo notizia. In questo momento tutti gli sforzi devono essere concentrati, ripeto, al coordinamento, all'organizzazione, avvalendici dei canali ufficiali e per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, della donazione economica di quelli che sono i disponibili, diciamo, riferimenti su Croce Rosso Nazionale piuttosto che sulla campagna SMS. Ecco, questo è fondamentale proprio per evitare quelle terribili speculazioni che avvengono anche durante queste emergenze davvero enormi. Allora, grazie, sicuramente ci aggiorneremo più avanti per eventuali sviluppi. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro a voi, grazie, buongiorno.